C'è un numero verde istituito dalla Regione Campania per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus. Il numero è 890 96 99 e sarà attivo a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 14. Risponderanno medici laureati abilitati iscritti all'albo competente. Il funzionamento del numero è garantito dall'ASL Napoli 1 Centro e ogni ASL della Regione avrà una o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno 9 postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornirà informazioni in italiano. È già attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 15 00. I cittadini intanto sono invitati ad evitare allarmismi e a tenersi alle sole informazioni fornite con continuità a livello regionale dalla Regione Campania e a livello nazionale dal Ministero della Salute o comunque da organi statali preposti e facenti parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, questo per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento. La buona notizia è che il virus è stato isolato grazie ad un lavoro di ricerca tutto italiano all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, diretto dal dottor Giuseppe Polito, originario di Sant'Arsenio, ieri mattina l'annuncio. A meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia si è riusciti ad isolare il virus. L'importante risultato sul fronte della ricerca grazie ad un team di donne, la responsabile dell'unità virus emergenti Concetta Castilletti, la ricercatrice Francesca Colavita e un'altra donna, Maria Capobianchi, alla guida del laboratorio di virologia. Nei giorni scorsi intanto nel bel mezzo dell'allarme che sta terrorizzando il pianeta, la notizia di un altro salernitano, Domenico Benvenuto, 24 anni, di Monte Corvino Rovella, studente iscritto al campus biomedico di Roma, autore della ricostruzione della struttura del coronavirus. Ora sarà più facile sperimentare terapie e vaccini.